Grazie a te. Barletta, Belluno, Brindisi, Cambobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Castelli Romani, Gallura, Latina, Lecce, Oristano, Potenza, Reggio Calabria, San Benedetto del Pronto, Sud Puntino, Teramo, e Termini in Merce e Venezia. Seguendo il motto con noi, al nostro posto, vorremmo chiedere che la cittadina italiana per Cune d'Avoli si impegnasse di più per fare più viaggi di formazione, e sempre con le altre sezioni. Vogliamo incontrarci di più con le altre IPD state e territorio, fare in modo che ci siamo più operatori, che ci seguiamo nelle attività. Vorremmo che la IPD nazionale facesse progetti nel campo dell'arte e del cinema, fare progetti nazionali indirizzati alla persona con la sindrome di Down, di tutte le facilità e per tutti i livelli cognitivi. Vorremmo che la IPD affiancasse i nostri genitori e i familiari ad accettare le nostre scelte, creare degli sportelli informativi, gestiti dagli operatori e chiedere consigli. fare più corsi di specializzazione per azivolare l'entrata nel mondo dell'oromo. vogliamo che, nell'incisi di amministrazione delle sezioni e di IPD nazionale, ci fosse una persona con sindrome di Down, creare più progetti per fondare il tema della sessualità e dell'affettività. vorremmo che la IPD facesse più rete con organizzazioni sportive. vorremmo che la società avesse più strutture per permetterci di decidere come, dove e con chi vivere quando saremo adulti. fare in modo che tutte le sezioni abbiano, attivino un SIL, servizio di inserimento lavorativo. fare in modo che tutte le sedi abbiano dei percorsi di riduzione all'autonomia. tranquilla